L'Ecco non è un paese per giovani. Lo scorso anno negli ospedali della provincia sono nati poco meno di 2.000 bambini, un record negativo. Dieci anni fa i nuovi nati erano 1.300 in più. L'Ecco non è il Bronx. Il prefetto interviene sugli episodi di violenza in Viale Turati. Il disagio sociale non si combatte con l'esercito ma intercettando le difficoltà dei giovani, spiega. Buone notizie per l'economia lecchese. Nell'ultimo trimestre del 2021 le piccole e medie imprese hanno registrato crescite e record di fatturato. Non mancano però le incognite sul futuro. La pallavolo nelle palestre, nei cortili delle scuole elementari lecchesi. Successo per il progetto Scuola Piccol'Ecco che ha coinvolto 1.500 studenti con attività di mini volley. Buonasera e bentrovati con l'informazione di Unica TV edizione di Lecco. Allarme nuovi nati dal 2012 hanno record in negativo per le nascite. La popolazione della provincia di Lecco è costantemente in calo. Lo scorso anno sono nati negli ospedali della provincia poco meno di 2.000 bambini. Pensate che dieci anni fa erano 1.300 in più. Allarme de natalità. Se c'è un'emergenza che rischia di pregiudicare il nostro futuro è il calo demografico. Un fenomeno che sembra inarrestabile al quale ha contribuito in maniera significativa anche la pandemia. Secondo i dati resi noti dall'Istat, Lecco è fra le province che in Italia ha più subito questa situazione negli ultimi anni. Stando alla classifica divulgata dal sole 24 ore. Fra il 2002 e il 2008 i nuovi nati nella nostra provincia sono cresciuti del 9,6%. Nel 2008 in particolare si è registrato il record di nascite nella provincia di Lecco con 3.408 bambini e un saldo demografico altrettanto da record con una differenza fra nascite e decessi che ha fatto crescere la popolazione di 551 unità. Da allora però è iniziata una discesa inarrestabile. La popolazione della provincia di Lecco ha smesso di crescere nel 2012, ultimo anno nel quale si è registrato un saldo positivo. I nuovi nati sono calati costantemente passando da oltre 3.000 nel 2011 ai 2.152 registrati nel 2020. In quell'anno la provincia di Lecco, complice alla pandemia, ha registrato un saldo negativo della popolazione di 2.407 unità. Un trend che ha proseguito anche lo scorso anno. I numeri non sono ancora ufficiali ma negli ospedali di Lecco e Merate sono nati 2.041 bambini. Mai si erano registrati così pochi fiocchi azzurri e rosa nella nostra provincia. Un dato destinato inoltre ancora a scendere, considerato che negli ospedali di Lecco nascono anche bambini di famiglie residenti nelle province limitrofe. Il calo è poi certificato anche dallo stesso studio dell'Istat che fra 2008 e 2020 testimonia in provincia di Lecco una riduzione delle nascite del 37,9%. Un'inversione di tendenza amplificata anche dalle conseguenze della pandemia. Urge trovare una soluzione. Il prefetto Castrese De Rosa interviene sugli episodi di violenza in Viale Turati. Lecco non è il Bronx, afferma il disagio sociale. Non si combatte con l'esercito, serve invece una rete per intercettare le difficoltà dei giovani. Vediamo. Il pestaggio di due agenti e l'arresto di un uomo e una donna. Le botte l'altra sera filmate dai residenti esasperati, sempre in Viale Turati ma anche in stazione in Piazza Garibaldi. Le polemiche a cui risponde il prefetto Castrese De Rosa. Lecco non è il Bronx. Qui non siamo in presenza di bande criminali, io lo dico sempre, non è che commettono reati. Sono persone che bevono e dopo che hanno bevuto l'alterazione dei fumi dall'alcol li porta a litigare e assumere atteggiamenti che certamente non fanno piacere, che vanno condannati. Ma qui dobbiamo inquadrare il fenomeno in quello che io definisco disagio sociale, cattiva educazione, carenza di famiglie che non riescono a svolgere il proprio ruolo. Quindi sono problemi di cui ci dobbiamo far carico tutti, perché noi adesso riandremo a Via Turati, di nuovo in forza. Io ho pregato il questore, il colonnello dei Carabinieri, abbiamo parlato nella riunione tecnica di coordinamento di fare nuovi servizi interforzi in quell'area, ma una volta che noi li avremo fatti poi torneremo di nuovo al punto di partenza, perché questi continueranno a bere, continueranno a litigare tra di loro. Fortunatamente qui non siamo in preda agli episodi che avvengono in tante altre città, vediamo le cronache di tutti i giorni, sono piene di questi episodi, frutto anche del lungo lockdown. Quindi bisogna agire a 360 gradi, coinvolgendo la comunità, i servizi sociali, le parrocchie, il terzo settore, dovremo fare un grande patto tra tutti quanti e cercare di individuare le risposte adeguate a questi ragazzi. Vedete, pure a Calorzio Corta l'altro giorno, di nuovo una presenza di ragazzini con musica alta, certamente danno fastidio, però poi siamo intervenuti, nessuno denuncia, nessuno segnala nulla, atti di violenza non li hanno fatti, i carabinieri stavano lì, cinque pattuglie inviate per capire cosa era successo, non è successo nulla. Non basta l'intervento delle forze dell'ordine, bisogna lavorare in rete sul disagio sociale, l'appello del prefetto. Non è che possiamo mandare l'esercito inviaturato, non è che possiamo militarizzare l'ecovo, quindi noi dobbiamo fare interventi di prevenzione. Noi ci saremo sempre quando si commettono atti di violenza, ma per più che denunciarli e arrestarli non possiamo fare altro. Io la vedo così, poi mi sbaglierò, ma il mio pensiero è che con la sola repressione non andiamo da nessuna parte. Si è chiuso molto bene l'anno per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Nell'ultimo trimestre del 2021 registrate crescite record per fatturato, produzione e ordini. è quanto emerge dalla congiunturale realizzata dall'API, ma non mancano le incognite per il 2022, a partire dal caro Energia. Si è chiuso un 2021 estremamente positivo per le piccole e medie imprese del territorio, ma sono tante le incertezze per l'anno in corso. Quanto emerge dalla prima congiunturale realizzata da API, Lecco e Sondrio, grazie alla collaborazione con il Centro Studi di Confap Industria Lombardia. Il 72% delle imprese associate ha registrato un aumento del proprio fatturato, l'84% una crescita della produzione e il 64% degli ordini. Sostanzialmente stabile l'occupazione, mentre sono aumentati per ben l'82% delle aziende i costi di produzione. Un sistema che funziona, un sistema che cresce, è cresciuto su base congiunturale ed è cresciuto su base tendenziale, quindi un 2021 che veramente dà un grande impulso e un grande sostegno alle imprese di piccole e medie dimensioni del territorio. Rimane importante un nodo che già a partire dal 2020 ha iniziato a farsi sentire, che è quello dei costi della produzione. Il costo della produzione che nasce come preoccupazione sul tema materie prime, che va pesantemente ad inflazionare la gestione caratteristica delle imprese, ma che nella componente energia va sempre di più a preoccupare le imprese anche dell'area di Lecco Sondrio. I propri costi di produzione, ma anche l'inflazione, sono le principali preoccupazioni delle imprese associate all'API per questo 2022. Il problema materie prime, il problema dei costi energetici che stanno schizzando alle stelle, crea in tutti noi dei timori che dobbiamo andare a gestire pian piano e vediamo il futuro. Speriamo che rientrino tutti in un ordine di grandezza più accettabile. Anche l'inflazione può essere un problema per quanto riguarda i consumi. I prodotti alla fine devono essere poi fruibili all'utilizzatore finale. Questi prodotti devono avere un prezzo ragionevole sul mercato. Quattro incontri per immaginare la Lecco del futuro, organizzarli il Rotary Club Lecco in collaborazione con Adi Lombardia e l'Associazione Culturale La Semina, un progetto rivolto in particolare ai giovani. Vediamo di che cosa si tratta. Uno sguardo a quella che sarà la Lecco del futuro. Quattro incontri dal 16 febbraio al 7 ottobre per provare a iniziare a immaginare e a costruire oggi la città di domani. Relatori prestigiosi, focus precisi, dal pensiero progettuale a quello scientifico, Smart City e la cultura del fare. Da un'idea di Rotary Club Lecco in collaborazione con Adi Lombardia, l'Associazione Culturale La Semina e il patrocinio di istituzioni territoriali e regionali. Una proposta rivolta soprattutto ai giovani chiamati a decidere il loro futuro. Parla soprattutto ai giovani perché ogni decisione che viene presa oggi condizionerà inevitabilmente la vita di domani. Quindi i giovani devono essere protagonisti delle scelte che la classe dirigente ha chiamata con responsabilità ad assumere e i giovani devono essere in grado di fare anche critica costruttiva, non critica per demolire, ad eventuali proposte che possono emergere. Il nostro dovere è anche quello di educare a crescere. I temi di questi quattro incontri con importanti relatori? I temi sono il primo incontro verterà sul Leccese nella prospettiva Smart Land, si terrà in camera di commercio, luogo significativo anche proprio per la nostra città. Il secondo sarà musei di impresa con la partecipazione di Andrea Ravatti di Adi Lombardia e si terrà al Politecnico, altro luogo significativo del pensiero dei nostri ragazzi. Il terzo Smart City, l'Eco Smart City parlerà del pensiero tecnologico e di come la tecnologia può essere al servizio del cittadino. Il quarto con la senatrice Cattaneo è armarsi di scienza, quindi il pensiero scientifico. alle loro richieste di chiarimento dopo i disagi patiti nelle ultime settimane ha risposto Trenord, società che gestisce il trasporto ferroviario e non il governatore Fontana. Così i pendolari lecchesi prendono carta e penna e scrivono di nuovo al Presidente di Regione Lombardia. I pendolari non sanno più a che santo votarsi. Nuova protesta dei comitati che raccolgono gli utenti delle tratte ferroviarie gestite da Trenord, fra le quali anche la Lecco Milano e la Comolecco. In queste settimane i complici riflessi del Covid sono ulteriormente aumentati i disagi per quanti ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare. Per la terza volta dunque i pendolari scrivono al governatore Attilio Fontana, alla luce anche del fatto che alle loro precedenti sollecitazioni, ha risposto la stessa Trenord accusando senza giri di parole i comitati di fare disinformazione. La società che gestisce il servizio ha specificato con una lettera aperta a tutti gli utenti come l'offerta dei treni sia stata ridotta del 12% a Natale e del 10% a Gennaio, valori in linea se non al di sotto di quelli registrati nelle altre regioni. Una risposta che non incontra il favore degli utenti che ora chiamano in causa di nuovo il governatore. Non intendiamo in questo momento entrare nel merito dei punti elencati dall'azienda sui quali peraltro non abbiamo alcuna difficoltà da affrontare un serio confronto nelle opportune sedi, scrivono i comitati pendolari rivolgendosi a Fontana. Invece nostra intenzione è chiedere nuovamente se il governo regionale ritenga accettabile l'attuale livello del servizio ferroviario e soprattutto quale futuro intenda dare allo stesso. Considerato il progressivo ridimensionamento iniziato fin da prima e indipendentemente dalle contingenti vicende del covid che hanno solo evidenziato le fragilità di un'azienda che anche in tempi ordinari si trovava costantemente in affanno. Si tratta di una risposta politica non tecnica concludono i pendolari che spetta al titolare del servizio e non al fornitore e su questo attendiamo fiduciosi riscontro e indicazioni da lei presidente della nostra regione. Da oggi fino al prossimo 14 febbraio anche a Lecco sarà possibile aderire alla raccolta promossa dal banco farmaceutico. Chi lo vorrà potrà donare in 41 farmacie della città e della provincia numero in crescita rispetto agli scorsi anni passati. La giornata clou sarà quella di sabato 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno sette realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l'edizione dello scorso anno sono state raccolte 4.318 confezioni di farmaci pari a un valore di 34.158 euro che hanno aiutato 5.565 ospiti di sette enti. La giornata clou dell'iniziativa, come abbiamo detto, ricordiamo il programma per sabato 12 febbraio. 1.500 studenti coinvolti per 400 ore di attività. Il progetto Scuola Picco è un successo. I bambini delle elementari si avvicinano con entusiasmo al mondo della pallavolo. Energia e tanta passione sono gli ingredienti del successo dei corsi Scuola Picco Lecco dedicati ai bambini delle primarie. A dimostrazione del gradimento dell'iniziativa, i numeri. Oltre 1.500 studenti coinvolti per 400 ore di attività. Il progetto si articola in due parti, uno di esercizi motori per i bambini di prima e seconda elementare e uno più tecnico di avviamento alla pallavolo per la fascia 8-10 anni. Per i piccini proponiamo giochi basici con la palla e di coordinazione, spiega Flavia Tavola, responsabile del progetto, mentre i grandi possono cominciare a cimentarsi con il nostro fantastico sport, imparando la schiacciata, la battuta, il palleggio e il bagger. Il progetto al suo quarto anno di attività e, malgrado la pandemia, ha riscosso grande adesione nei comprensivi di Lecco e in Valsassina, un'iniziativa che ha arricchito anche gli insegnanti che potranno riproporre ai loro studenti gli esercizi del team Picco. Ci tengo a sottolineare il lavoro fatto negli anni scorsi e tuttora dalla mia squadra di collaboratori, prosegue Tavola. Con questo progetto i bambini hanno modo di sperimentare, conoscere e avvicinarsi alla pallavolo. Un successo promosso da tutto il team della pallavolo Lecco, Alberto Picco. Crediamo molto in queste iniziative, commenta Luisella Milani, responsabile del settore giovanile Picco, e le riteniamo un valore aggiunto per la nostra società. Mi sento di ringraziare, conclude, i nostri tecnici che con tanto impegno svolgono questo compito. Occhi aperti sul Pian di Spagna. In occasione della giornata mondiale delle zone umide, domenica 6 febbraio, Legambiente, WWF, Cross, Varena e Orma hanno affisso uno striscione nella zona nord delle riserve Pian di Spagna e Lago Mezzola. Purtroppo, commenta Costanza Panella di Legambiente, rappresentante delle associazioni nella comunità della riserva, il valore di quest'area umida, la più estesa nell'arco alpino con il suo scrigno di biodiversità, non è ancora pienamente compreso dalla comunità locale. Lo testimonia ancora una volta il vasto incendio con tutta probabilità doloso che ha distrutto ettari di canneto e tutta la fauna che lo abitava. Nei giorni scorsi il presidente della riserva ha convocato un tavolo tecnico invitando autorità e denti per trovare una soluzione a questo problema. Si chiamavano Aquile Randage, i ragazzi che durante il fascismo praticavano illegalmente lo scautismo, tanti loro legami anche con il territorio lecchese. La loro storia sarà ricordata con una pièce teatrale in scena al Cineteatro Palladium di Castello il prossimo 16 febbraio. Vediamo. Una pièce teatrale dedicata alle Aquile Randage, una storia di scautismo, di ribellione e di resistenza che torna ad attualità grazie alla cooperativa Scout di Lecco e alla parrocchia di Castello. Tutto questo in funzione del FAI per il recupero di un palazzo storico appunto del rione lecchese. Abbiamo programmato una serata in cui attraverso la pièce teatrale di Alessandro Cendron, cercheremo di far cogliere i legami che ci sono stati tra lo scautismo lecchese e le Aquile Randage, legami sia dovuti alle persone che abbiamo conosciuto e con le quali abbiamo condiviso delle esperienze, sia ai luoghi, soprattutto la Val Codera. Perché il legame con Castello? Perché negli anni 65 e 66 lo scautismo lecchese era senza sede e il mio noviziato e il clan erano stati ospitati per questi due anni proprio nei saloni del palazzo a Rigoni Secchi. Il FAI lo sta ristrutturando e allora abbiamo cercato di fare questa proposta insieme perché ci sembrava una bella occasione. Quando, come si terrà e come si potrà partecipare? Si terrà il 16 febbraio alle 20.45 al Cinema Palladium di Castello. Basta andare sul sito cooperativascout.it e prenotarsi per facilitare tutte le operazioni di entrata legate alla situazione contingente. Questa sera una nuova puntata della nostra trasmissione di approfondimento. Hashtag lotta alle mafie, criminalità organizzata, interdittive ma anche rinascita di luoghi simbolo dai clan alla solidarietà. Quanto ancora bisogna fare? Quali sono i pericoli oggi? Ne parleremo appunto questa sera in studio con il prefetto di Lecco Castrese De Rosa e Alberto Bonacina referente di Libera. Lecco appuntamento alle 20.20 e alle 21.40. E in conclusione del nostro telegiornale vi ricordo che potete risintonizzare il vostro televisore perché è in atto il passaggio al nuovo digitale terrestre. Ci troverete sul canale 75, potete anche seguirci sul web, sul sito teleunica.com, teleunica.tv e su tutti i nostri canali social. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.